Salve merdoni, bentornati sul canale dell'impero del cinema e benvenuti al quarto appuntamento con la rubrica Quarantena, 5 film che non possono mancare. Iniziativa ideata da Cinefollie che ha reclutato un team di 8 youtuber, tra cui lui stesso ovviamente più Cucina con D, Federico Frusciante, Il Cinema nella musica, quindi rispettivamente Black e Paco che considerando la quarantena faranno un video a testa, Shiva Produzioni, Antonio Cianci, il raccattafilm e me medesimo, per pubblicare ognuno sui rispettivi canali ma con questa playlist condivisa, un video al giorno, dal 23 in poi, per 8 giorni, per ognuno di noi, a tema quarantena. Quali sono i 5 titoli cinematografici che porteremmo con noi in un bunker sotterraneo nell'eventualità di una quarantena assoluta? Non è mai facile per un cinefilo ovviamente scegliere 5 titoli tra tutti, ti porta inevitabilmente a scartare roba che ti sta a cuore tanto quanto, se non di più, quelli che poi alla fine hai scelto, per me è stato così soprattutto per uno che menzionerò, ma non è all'interno della cinquina. Quindi, commentate, lasciate la vostra cinquina qui nei commenti, recuperate i tre video usciti prima del mio, nei tre giorni precedenti al mio, quindi quello di lunedì 23 di Mattia di Cinefollie, quello di martedì 24 di Black di Cinema nella musica e quello di mercoledì 25 di Cucina con D. Vi lascio tutto in descrizione, link, vi mettiamo nella condizione di recuperarli tutti e di non perdervi nemmeno uno se li seguite giorno giorno o indifferita successivamente. Ringrazio tantissimo Mattia di Cinefollie per avermi permesso di essere qui, di presentarmi a lui, di presentarmi a Andrea di Sciva, di presentarmi a Antonio, di presentarmi veramente a tutti quelli che seguo da anni di cui non c'è mai stata l'occasione di presentarsi. Quindi sono felicissimo di far parte di questa cosa e sono chiamato oggi a dare la mia cinquina, partendo da molto molto lontano, praticamente dall'inizio, dalla mia origine di spettatore e di cinefilo. I primi due prodotti audiovisivi che ho visto in vita mia sono stati due film animati, La Sirenetta e Bianca e Berni. Il terzo, siccome il mio babbo è un pazzo scatenato, ex parà della folgore, quindi vi lascio immaginare il soggetto, portò a casa una sera una serie di VHS noleggiate e mi permise di vederne una insieme a lui e mia madre, senza rendersi conto che potenzialmente poteva lasciarmi un trauma a vita. È stato molto fortunato perché sono passato da donne con la coda di pesce che fanno amicizia con i granchi e con gabbiani che sentono le pulsazioni umane da sotto le piante del piede della gente, a topi che salvano orfani dall'altra parte del mondo, a alieni che appendono gli uomini a testa all'ingiù come bovini e gli scuoliano strappandogli il cuore dal petto. Predator 2 di Stephen Hopkins, 1990, Stati Uniti. Inconsapevolmente, involontariamente, mio padre mi ha fatto esplodere la passione per il cinema. Anzi, in quel caso, per i film. Perché sì, sapevo già che mi piacevano i prodotti animati canonici per la mia età anagrafica del tempo, ma lì capì che mi piacevano i film, uno, quindi il cinema, due, la fantascienza, tre, l'horror e quattro, che non ero neanche troppo impressionabile alla violenza grafica, realistica, per un bambino di cinque anni. Questo potrebbe essere preoccupante, però è sempre stato così. Quindi nel nulla della mia conoscenza di quel momento, con due prodotti audiovisivi alle spalle, prima di Predator 2, d'animazione per l'infanzia, nel nero, quella fu la scintilla, la prima scintilla, il primo spark. E Predator 2, per quanto mi riguarda, a prescindere da quanto sia sempre stato trattato negli anni alla stregua di un sequel mal riuscito e da dimenticare. Non so se è il mio affetto nei suoi riguardi a impedirmi di odiarlo in qualsiasi modo, ma di amarlo al contrario, in qualunque suo aspetto, a prescindere dalla consapevolezza che ho che non sia assolutamente all'altezza del capostipite di MacTiernan, ci mancherebbe altro. Però l'idea del Predator in città che deve cacciare, quindi come sempre dal primo, come il secondo, il novizio che viene spedito sulla terra per diventare adulto e fare così la sua iniziazione, l'idea del terreno di caccia come una giungla di cemento è infinitamente più stimolante, apre a mille opzioni, considerando che come terreno di caccia per il Predator stesso è più pericoloso. Ogni angolo brulica di umanità, non sono zone di giungla semi desertiche per la maggior parte, con qualche animale qui e là e pochi soldati sparsi. Quindi l'idea è fantastica. Forse spinge un po' troppo l'acceleratore sul fumettistico, questa visione un po' futuristica di Los Angeles vista dal 90 al 97 in avanti, un po' discutibile sotto molte cose, armi un po' astruse, la stazione di polizia. La prima volta che vediamo la stazione di polizia, ma cos'è? È un carnaio, è un mercato, è qualcosa di assolutamente folle, la caratterizzazione stessa di molti personaggi, per quanto per quanto mi riguarda Danny Glover come tenente Harrigan sia per me ormai una figura iconica, anche se non lo è per tutti gli altri, per me sì, perché è il mio primo film, Predator 2, è in assoluto. Il mio primo film, il mio primo live action, è quello da cui è iniziato tutto. Che non rinuncia a dei bei fotogrammi, soprattutto sul finale, Stephen Hopkins è un regista che più o meno è andato a sparire, l'ultima cosa che ricordo recente di lui è un biopic su Peter Sellers con Geoffrey Rush, se non mi ricordo male. Comunque, confeziona secondo me un buon fanta-horror di mestiere e di ritmo, molto violento e molto viscerale, e che a livello di effettistica con Stan Winston ovviamente vinci facile, comunque rende tantissimo e che amo, sarebbe il primo film che mi porterei veramente in quarantena. Questa è la VHS che avevo quando ero bambino, non l'ho pulito dalla polvere perché faceva pietà. Sempre in quegli anni mio cugino era solito passarmi tutta una serie di VHS registrate dalla TV con più di un film al loro interno. E in una di queste c'erano due film, uno era Godzilla di Shiro Honda, 1954, Giappone, visto più o meno all'età di otto anni per la prima volta. Sette, otto anni, non ricordo. Ma non è questo quello di cui voglio parlare, bensì di Shin Godzilla, di Hideaki Hanno, ed è l'altro regista che tutte le volte mi scordo il nome. Vediamo se lo ritrovo. Shinji Ikiguchi, credo. Sì, credo di sì. Comunque, Shin Godzilla sostanzialmente per me è il miglior Godzilla possibile. È assolutamente l'ammodernamento migliore, il remake moderno migliore che si possa immaginare per l'originale di Honda, che resta sicuramente più importante nella storia del cinema, ovviamente, ma quello che Hideaki Hanno riesce a tirar fuori con 15 milioni di dollari di budget rispetto ai suoi corrispettivi hollywoodiani che sforano i 200 e mancano di tutto quello che c'è qui. Una sceneggiatura di ferro che è fin troppo per molti verbosa, iperdialogata, ma che altro non è che una rappresentazione procedurale, precisissima, di come una nazione come il Giappone reagirebbe a una calamità simile. Assolutamente assurdo, sotto certi aspetti diventa palese che la loro proceduralità non è una cosa che farebbe parte della nostra cultura, ci esploderebbero le coronarie a livello nazionale nel giro di una settimana, e mostra in modo satirico, in modo critico, le falle di questo sistema e i pregi di questo sistema, i difetti del popolo giapponese e gli assoluti pregi che derivano dalle sue disgrazie più grandi del secolo scorso. Che Godzilla ripete come se fosse un terzo grande evento. Che in questo film non è un riequilibratore della natura, una creatura pre-preistorica che c'è sempre stata e che esiste per mantenere gli equilibri del pianeta stabili. è un nostro effetto collaterale, è una nostra creazione, non è più un dinosauro. Quello che a me mi ha colpito tantissimo è che sì, la sua fattezza è sempre quella, ma palesemente non è più un dinosauro, è un abominio che per nostra sfortuna ha le potenzialità di un dio. E che stranamente si ricollega molto visceralmente al periodo storico che stiamo vivendo adesso, in quanto quando te puoi anche essere negligente, puoi anche essere presa pochista riguardo a problemi importanti, ma quando poi la realtà ti sbatte in faccia con tutta questa violenza viene fuori il peggio, senza il minimo dubbio, ma sei anche costretto a tirare fuori il meglio dall'umanità. La creatività in Shingozilla e la collaborazione, non soltanto a livello di individui, ma di nazioni, è quello che riesce a risolvere la situazione che comunque non si risolve, che si conclude nella consapevolezza di dover convivere col problema da lì in avanti. Vi ricorda qualcosa? A me sì, e fa abbastanza paura. Sempre da bambino, l'ho già fatto un video di 25 minuti, quindi mi ci perdo veramente pochissimo, Terminator di James Cameron, non potrei non portarmelo in un bunker assolutamente. Amo sia il primo che il secondo, più o meno in ugual misura, ma con Terminator 2 ho un legame particolare, veramente particolare. Uno dei miei cinque film preferiti in assoluto, uno dei film della vita, la mia saga preferita in assoluto. Ne ho già parlato a sufficienza, e ho già parlato a sufficienza degli altri, recuperiamo un po' di tempo. Capolavoro della fantascienza cyberpunk distopica, stupendo, clamoroso, per quanto il film non sia distopico perché è ambientato ai giorni nostri, però il respiro è proprio quello, la sua potenza è quella evocativa più che quella espressiva, oltre a quella espressiva che è, epocale. Ma, se Predator 2 è stato la scintilla e la bomba atomica è arrivata qualche anno dopo, perché Predator 2 mi fece capire che mi piacevano i film, non mi fece interessare prettamente al cinema, il primo film che lo fece fu Jurassic Park di Steven Spielberg, che non è in questa cinquina ed è in grande assente. Steven Spielberg è il primo nome che è entrato qui dentro, come moltissimi altri del resto, zio Steven è lo zio di tantissimi, non a caso, ha segnato una generazione intera e anche più d'una. Jurassic Park per me è stato veramente tutto, tutto quello che mi ha dato il via a capire che dietro un film c'era la visione di un uomo e il lavoro collettivo di un gruppo. Non sempre è così, però, per quanto riguarda i grandi autori, sì. E di grandi autori si tratta anche qui, perché a 14 anni uscì questa collezione di DVD con queste custodie di cartone su questo regista e io lì iniziai il viaggio. E una sera, a 14 anni, nel garage dall'altra parte di questa casa, con la basculante, con gli spifferi, non c'era riscaldamento, non c'era termosifoni, condizionatori, non c'era niente, ero io, con un plaid addosso, con il fiato del freddo che c'era in quella cazzo di stanza, un televisore a tubo catodico, il lettore DVD. E adesso, qui, vi presento, in questa bellissima steelbook in 4K, il film che mi ha segnato l'esistenza. 2001, Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick. 1968, Stati Uniti. Io ricordo che ho premuto play e per due ore e mezzo mi sono scordato di esistere. Finite le due ore e mezzo, senza controllarmi, mi sono alzato in piedi da solo, ho lasciato andare il plaid, e con questa faccia ho applaudito per un minuto e mezzo abbondante, chiedendomi, ma quando la rivedo, no, Sousi? Ma quando mi ricapita di rivederla, no, Sousi, se non decido di riguardarlo? Ci ha pensato Malik nel 2011 con The Tree of Life a darmi un po' di quel respiro, ma 2001 è 2001, quindi forse per me il miglior film della storia del cinema, senza ma fuori dal millennio in cui è stato realizzato, ancora oggi straordinario. Questa, tra l'altro, è la versione restaurata, curata da Nolan, con la color correction originale, perché non lo sapevo effettivamente, ma nel DVD e nel Blu-ray che ho sempre avuto, la color correction era stata resa molto più asettica, i bianchi delle astronavi erano veramente luminescenti di bianco, e invece qui si recupera una densità di colori, e quindi di superfici, che rende il film la visione familiare di sempre, per chi lo sa a memoria come me, ma di percezione completamente diversa, molto migliore, molto più bella, molto più carica, più densa, e essendo 2001 un film puramente percettivo, perché uno poi ci può speculare su quello che vuole a livello di significati, il rapporto tra umano e tecnologia, come ci si influenza a vicenda, come l'uomo una volta che subentra nei calcoli di una macchina la manda in tilt, e la umanizza nel peggiore dei modi, l'uomo rispetto all'universo, l'insondabilità del cosmo e tutto, però per quanto mi riguarda, 2001 va oltre ogni ragionamento, oltre ogni pensiero, oltre ogni speculazione tematica, 2001 è un'esperienza sensoriale, che ogni volta a prescindere, per quanto io mi sia fatto l'idea nell'arco degli anni, da 14 anni a 32, siamo quasi a 20 anni, che ho visto 2001 per la prima volta, oh mamma, santo male, vecchio di merda, comunque mi ha segnato, e continuo a segnarmi, e la visione in 4K è stata qualcosa di estasiante, mai quanto la prima però, che a prescindere da tutta la mia consapevolezza acquisita nel tempo, è rimasta la supernova, se Predator 2 è stato la scintilla, Jurassic Park, l'atomica, 2001 è stato la supernova finale, che lì ho proprio detto, ok, il cinema lo amo, ora ho capito che il cinema lo amo, ed è il motivo per cui porto il quinto film, anche questo di fantascienza, ci faccio caso ora, only sci-fi, ed è il più inaffrontabile che propongo, nella rubrica, Hard to be a God, di Alexei Yerman, 2013, Russia, fantascienza anche questa, ma soltanto nel concept, in quanto a livello grafico di fantascienza, nel film non ci sia niente, Hard to be a God è ambientato in un periodo futuro, non precisato, in cui si capisce che l'umanità è in grado di viaggiare tra pianeti, siamo diventati una specie interplanetaria, e quando il film inizia, noi non vediamo nessun viaggio nell'universo, ma siamo già su un altro pianeta, che si chiama Arcanar, e che è sostanzialmente una copia in piccolo della Terra, molto distante, molto distante da essa, su cui noi siamo atterrati da non molto tempo, l'abbiamo scoperta da non molto tempo, e su questo pianeta è cresciuta un'altra umanità, uguale sostanzialmente a noi, che per un periodo, fino al Medioevo, ha avuto il nostro stesso percorso di civilizzazione, e poi per un lunghissimo periodo infinito, che è continuato per circa 800 anni, di oscurantismo culturale, in cui qualunque uomo di cultura, professori, scienziati, scultori, pittori, qualunque uomo di cultura, qualunque, chiunque, veramente chiunque, lo ritroviamo durante i 170 minuti devastanti di visione, morto nei modi più disparati e nei posti più vari. In queste scenografie, che fanno veramente spalancare la bocca, Hard to be a God, è la storia di un terrestre, facente parte di una spedizione scientifica, tra scienziati e documentaristi, quindi la camera nel film, non è un occhio astratto e assente, rispetto ai personaggi in scena, ma è presente e le comparse e gli attori interagiscono con essa ogni tanto e il tutto crea questo senso di realismo estremo, misto alla minuziosità delle scenografie, che sono minuziose nel minimo dettaglio in ogni loro aspetto per tutta la loro grandezza. Il protagonista, questo terrestre denominato nel film Don Rumata, viene temuto dalla popolazione di Arcanar come un figlio di un dio pagano sceso dal cielo, quindi la spedizione come guida ha l'obbligo di documentare e potenzialmente intervenire, se si può, migliorando la situazione più possibile per il pianeta, senza la possibilità di uccidere. L'unico divieto è quello di non uccidere. Quindi Rumata diventa un feudale, si fa gli schiavi, che però, al contrario degli altri nobili del pianeta, tratta più o meno decentemente, per quanto li tenga a catena, comunque la mattina suona con loro, gli sussurra poesie terrestri nell'orecchio, sperando che qualcosa nella mente attecchisca, e Art to be a God è forse gli ultimi giorni di pazienza di Don Rumata, che ormai si capisce fin dall'inizio del film essere su Arcanar da molto tempo, cercare in tutti i modi di risvegliare un po' la coscienza degli altri da molto tempo, degli arcanariani, ma purtroppo questo oscurantismo durato così o così tanto, ha portato la popolazione di Arcanar tutta, dal popolano al nobile, ad essere a livello di intelligenza più o meno al limite estremo tra un uomo e un animale. Anche il nobile è analfabeta, anche il nobile è stupido, sono tutti malati, la fotografia, la fotografia di chi era, aspetta, non mi ricordo il cognome, cazzo, dove era, cinematografi, Vladimir Ilyin, il bianco e nero di Ilyin, è qualcosa di straordinario, i contrasti tra il bianco e il nero e la profondità, che danno al tutto un aspetto ancora più mortifero e putrescente, questo è un film che richiede tutto il vostro impegno per essere portato dall'inizio alla fine, che non dà troppo sul pedale della violenza estrema, tranne nell'ultima mezz'ora, e che quindi risulta veramente pesante, veramente impegnativo, non vuole intrattenere neanche per un singolo secondo, ti vuole far male, vuole veramente portarti a sentire la miseria, e quello che succede è che ti manda in depressione completamente in due ore e mezzo e l'ultima mezz'ora ti uccide. Poi, metti la testa fuori dalla tana per un attimo a film finito, prendi fiato e dici ferma, non siamo lì, non siamo in R2Bagod. Non ancora. R2Bagod è una specie di avvertimento doppio. Pensate cosa potremmo essere stati se a un certo punto della storia non avressimo deciso di essere migliori. Pensate a quanto possiamo scavare il fondo del barile, ben oltre il fondo del barile. R2Bagod è questo, una sorta di avvertimento ed è forse uno dei migliori film che ho visto in vita mia, in assoluto. Capolavoro, capolavoro, capolavoro. Difficile da recuperare qualcosa, credo, su RaiPlay c'è ancora, l'hanno mandato su Rai3, se non mi sbaglio, qualche settimana fa. Io l'ho recensito molti, molti, molti mesi fa, forse addirittura un paio d'anni fa. Ora non ho più il senso del tempo dall'inizio della quarantena. Comunque, questa era la mia cinquina. Ragazzi, facciamo i seri, stiamo a casa, pensiamo a chi sta in prima linea e mette le mani nel virus, e proprio c'ha le mani in pasta e rischia sulla nostra pelle per permetterci sulla sua pelle per permetterci di dire a noi che siamo a casa che palle e basta. È un privilegio, è un privilegio ora come ora poter dire che palle e basta. Siamo fortunati a poter dire solo questo. Facciamo i seri, restate a casa, io resto a casa, personalmente ormai sono quanto? Boh, 18 giorni che praticamente non metto la testa fuori d'acquisto, iniziando a dare i numeri, ma questo è il nostro dovere attualmente. Ringrazio ancora tutti, tutti quelli che hanno preso parte, che prenderanno parte fino alla fine, fino a chiusura della rubrica a questo progetto, ringrazio di nuovo Cinefollie per avermelo permesso, saluto tutti quelli che hanno visto questo video e vi rimando al prossimo. Non so se posso dire di chi è, quindi vi lascio nella suspense. Ciao ragazzi, alla prossima! Grazie a tutti!